Umorismo, lo utilizzate? Vi piace? Sicuramente è qualcosa che vi piace quando fate parte del pubblico. L'umorismo è eccezionale ma bisogna stare attenti, può essere un'arma a doppio taglio. Perché è positivo? Ovviamente perché al pubblico piace essere intrattenuto, piace a tutti noi, piace ridere, sorridere e quindi questo crea attenzione e interesse da parte dell'audience. Ma è un'arma rischiosa perché se non funziona il risultato può essere controproducente. Non c'è niente di peggio quando solo il presentatore ride o sorride alle proprie battute. Questo gela l'audience e il ritmo dell'emozione della vostra presentazione. Quindi farlo con attenzione, farlo con cura, sicuramente evitare le barzellette a meno che non siate dei consumati cabarettisti. Nel tuo caso probabilmente però non fareste presentazione.